Ho avventurato qualcuno qui chiedere un miracolo! Voglio sentire io! Siamo quasi. Uno spirito. Preparati, Mulan, la tua salvezza serpentina è arrivata perché sono stato mandato dai tuoi antenati per guidarti nella tua mascherata. Grillo, se vuoi rimanere, devi lavorare. Ascolta le mie parole! Se l'esercito scopre che sei una donna, la pena sarà la morte! Chi sei tu? Io chi sono? Io chi sono? Io sono il guardiano delle anime perdute! Io sono il potentissimo, simpaticissimo, indistruttibilissimo Mushu! Sono focoso, eh! I miei antenati hanno mandato una lucertola per aiutarmi. Ehi, drago! Drago, non lucertola! Non faccio quella cosa con la lingua! Sei, ehm... Intimidatorio? Imponente? Piccino? Certo! Sono formato viaggio per tua convenienza. Se fossi a grandezza naturale, la tua mucca qui avrebbe un infarto. Accuccia, Carolina! I miei poteri superano la tua immaginazione. Per esempio, i miei occhi vedono attraverso la tua armatura. E no, ora basta! Disonore! Disonore su tutta la tua famiglia! Prendi nota tu! Disonore su di te! Disonore sulla tua mucca! Smettila! Scusami, scusami! È che sono nervosa, non mi ero mai vestita da uomo. Allora dovrai fidarti di me! E non schiaffeggiarmi mai più! Tutto chiaro?